Una salvezza che vale come uno scudetto. L'Erg Priolo ce l'ha fatta, ha centrato, non senza fatica e sudore, il suo traguardo stagionale. Lo ha fatto vincendo la doppia sfida play-out contro Cagliari. In gara 1, davanti al pubblico amico, si è resa protagonista di una strepitosa rimonta, vincendo con un punto di scarto, 82-81, al supplementare. In gara 2, mercoledì scorso, in Sardegna si è ripetuta con il punteggio di 68-65. 27 lunghi anni di A1, un record assoluto per lo sport siciliano. Dal 1985, Santino Coppa e le sue ragazze regalano gioie ed emozioni a questa piccola comunità, famosa per le ciminiere della zona industriale, ma anche per le prodezze di questa grande realtà del basket femminile italiano. La Trojilos si è freggiata di due scudetti, ma anche di una Coppa dei Campioni, conquistata nella finale di Cesena del 90 contro il CSKA Mosca, partita alla quale si riferiscono queste straordinarie immagini. È stato il punto più alto toccato dallo sport siracusano. Priolo è imbattibile e lo dimostrò già dalla stagione precedente, quando si aggiudicò con pieno merito il tricolore, battendo Milano nella bella del Palaminardi di Ragusa. Non esisteva ancora, infatti, il palazzetto di Contrada San Focà. Nel 2000 poi altra perla, Sofia vince e compagne, conclusero la stagione regolare in ottava posizione. Da lì iniziò la scalata verso il titolo, conquistato in quattro gare di finale contro la superfavorita Schio. Una gioia incontenibile quella del team bianco-verde, come dimostrano anche queste immagini. Priolo sfiorò il terzo titolo nel 2006, ma c'è dette a Schio in una bella entusiasmante e decisa soltanto negli istanti finali. Priolo, splendida realtà dello sport siciliano, anche quando rischio grosso nel 2003. In panchina c'era Coach Petit Per, Coppa maturò un'esperienza in Veneto nello stesso anno e le bianco-verdi evitarono la retrocessione per il rotto della cuffia. La salvezza di questa stagione è il sapore di un'impresa date le oggettive difficoltà economiche di una società che dopo la retrocessione in A2 dell'Augusta Calcio 5, sarà l'unica pallannuoto del capoluogo a parte a rappresentare la provincia di Siracusa in un massimo campionato così importante.